Calore, ergonomicità ed agopressione nella versione full body. Prova un'esperienza totalizzante dalla testa ai piedi, su ogni centimetro del tuo corpo. Una sensazione di benessere e distensione avvolgente, che partendo dal collo scenderà alla zona lombare e poi giù fino ai piedi, riproducendo l'effetto di decine di massaggi. Acquistalo oggi! Se non funziona, non lo paghi!